Stefano Candiani, lei oggi in Senato ha portato una mozione a favore delle imprese, di che cosa si tratta? Si tratta di una mozione che impegna il Governo ad attuare tutte le politiche fiscali possibili per poter creare delle opportunità di competitività, ovvero i territori di confine con la Svizzera subiscono ormai da tempo un risucchio da parte della Confederazione Levettica e del Ticino in particolare perché le opportunità sia in termini di credibilità del sistema sia in termini di minore tassazione fiscale in Svizzera rendono attraente quel territorio. I territori quindi varesini, piuttosto che comaschi, sondri o alberguano così ossola sono quindi drenati e perdono capacità produttiva. Abbiamo quindi chiesto al Governo di impegnarsi a realizzare dei sistemi di fiscalità differenziata, più leggeri per queste zone di confine, un po' come avviene già in Lombardia per lo sconto benzina, una tassazione a cui rinuncia lo Stato che consente invece di rimanere in Italia a fare la spesa, in questo caso con le imprese a poter produrre, giovandosi anche di un sistema, e questo abbiamo chiesto, normativo più semplice, più facile, più semplificato. L'iniziativa è stata portata e ha raccolto anche il consenso di altri gruppi e su questo siamo ben contenti quindi averla portata avanti. Purtroppo questa mozione non è stata approvata e il voto è stato rimandato a martedì, perché? La mozione verrà infatti riposta in votazione martedì, oggi non è stato possibile perché il numero legale è mancato, i 5 stelle erano presenti in massa quando c'era da votare la loro mozione sul popolo del sud Salara, e invece sono mancati richiedendo poi anche la loro volta il numero legale su questa mozione. Qui si vede la differenza tra chi ha interesse nelle nostre imprese, nella nostra gente, nei nostri lavoratori, nella realtà, sostenendo con il loro voto in Senato le cose, e chi invece semplicemente è lì per pigliarla di aria.